Noi qua, diciamolo chiaramente, chiediamo l'abolizione del canone RAI, lo facciamo in maniera articolata e diamo anche la spiegazione di come reperire le risorse per il servizio pubblico radio televisivo, non per finanziare il carrozzone RAI, perché sono due cose completamente diverse. Noi siamo convinti che 1,73 miliardi di euro, ovvero 1.730 milioni di euro ogni anno, non possono essere denati dalle tasche dei cittadini contribuenti ad una sola concessionaria di servizio pubblico.